Ehi tu, se ti iscrivi al canale sei un armadillo, iscriviti al canale se no ti porto un armadillo carnivoro a casa che ti morde il dito Se lasci like ai miei video armadillosi sei un caimano, lascia like se no scateno il mio caimano personale su di te Se mi segui sui social colorati discutibili sei un drago di comodo Ciao a tutti armadillosi e bentornati in questo nuovo video armadilloso di swagger Scusate sta intro un po' asmer però mia madre sta lavorando e non voglio che mi senta urlare come un banano Faccio sto video per dirvi che ho creato un account snapchat che non so totalmente cosa sia, che la forza degli armadilli sia con noi Bene armadillosi siamo qui sul nostro snapchat, questo social giallo Non so niente, soltanto che l'hanno scaricato un miliardo di persone Vedremo se si merita questo miliardo di persone che l'hanno scaricato, vedremo Io ho creato soltanto un account, non so niente Allora intanto proverei a cliccare sul mio account Ecco questo è l'account che mi son creato Siccome non sapevo nulla, non so, mi son creato in mutande con delle ciabatte del coniglio Adesso vediamo se posso cambiare, cambia outfit, si voglio cambiarmi un attimo Che non voglio essere un nudista Ci sono anche le marche, ma di cosa stiamo parlando? Non immagino quanto abbiano pagato per sponsorizzare la marca qua nel videogioco Vabbè comunque sinceramente io mi lascerei in mutande con queste ciabatte del coniglio Sono decisamente più sexy così Vara che fiero Cioè il mio avatar è decisamente tutto tranne che me Corporatura io mi metterei obeso In teoria se ci fosse una corporatura minore di questa la metterei Soltanto che siccome voglio essere originale mi metterò obeso Va bene ecco perfetto quello che volevo Bene adesso che ho creato il mio avatar Vediamo cosa possiamo fare oltre a renderci cicciani in mutande Poi un mio amico mi aveva detto anche una volta che se tu vai su map Lì puoi vedere cosa fanno i tuoi amici e di conseguenza loro possono vedere dove sei te Quindi se tu stai defecando per i cavolacci tuoi Loro possono vederlo Mi sembra corretto ovviamente Armadillo madilosi scusate se questo video duri così poco In tal caso mi dispiace però era un video breve così Soltanto per farvi vedere una cosa E con il sole anche che mi arrivava all'inizio in faccia E niente armadillo madilosi Il video dove scopro una nuova applicazione finisce qui Lasciate like Iscrivetevi Mi raccomando iscrivetevi Se no vi portovi un cavalloccio marino nello stomaco Stavo dicendo iscrivetevi per venire a far parte della swag squad E diventare un armadillo o un pavoneggiarsi Se vi starete chiedendo perché chiamo i miei scritti preferiti pavoneggiarsi Perché swagger in inglese vuol dire pavoneggiarsi Se volete mi trovate anche sul social arancione instagram e social blue discord Che sono entrambi social colorati discutibili E noi ci vediamo al prossimo video Si spera Armadilloso Ciao Questo dovrebbe essere il saluto dell'armadillo Ehi tu guarda sti video Altrimenti ti porto a casa tua il mio esercito di draghi di komodo